...ci sta seguendo attraverso i canali dell'archivio della Camera dei Deputati. Oggi è indetta la conferenza stampa, Anir ha indetto insieme a Confindustria Servizi e HCFS, la conferenza stampa che ha il titolo Codice Appalti e Contratti di Servizi. Serve una normativa specifica, in particolare la ristorazione collettiva chiede la modifica della revisione prezzi. È un tema che sta molto a cuore al sistema di rappresentanza delle imprese dei servizi in generale, che a sei mesi dall'attuazione del Codice Appalti rileva alcune mancanze e alcune cose che potrebbero essere regolamentate. In particolare le imprese della ristorazione collettiva vivono un momento di forte criticità dovuta all'innalzamento dei prezzi e al mancato ricoscimento dei costi negli strumenti previsti dal Codice degli Appalti. Sono presenti, ringrazio innanzitutto chi ha permesso oggi lo svolgimento di questa conferenza stampa, in particolare il gruppo alla Camera di Fratelli di Forza Italia, scusate, e in particolare sono presenti l'onorevole Mazzetti e l'onorevole Nevi, che ringrazio di nuovo per averci permesso. Sono presenti anche altri onorevoli, non solo deputati, vedo il deputato Stumpo, Verini, che vedevo prima che è un senatore, penso adesso ci raggiunge. Sono collegati molto probabilmente della Lega a Caparvi, che non è potuto essere presente, ma ci seguirà attraverso gli strumenti web, e aspettiamo anche la presenza di altri componenti, che poi a cui daremo la parola. Poi ci sono molti degli stakeholder e delle imprese di cui discuteremo, quindi avremo modo magari, oltre alla stampa, di ascoltare anche la loro voce. La conferenza, lascio la parola adesso al Presidente di ANIR, che è l'associazione nazionale che rappresenta le imprese e la restaurazione collettiva nel perimetro confindustriale, a cui do la parola per illustrarci. Prenderà poi la parola il Presidente Mattioli, che rappresenta il mondo dei servizi all'interno della struttura confindustriale, in particolare è Presidente di Confindustria Servizi HCFS, che è la federazione che riunisce quattro associazioni di categoria all'interno del perimetro confindustriale. È presente, così finisco le presentazioni, anche il Vice Presidente Fusco, che rappresenta per ANIR la delega all'area mercato, e che ci darà una cognizione tecnica, soprattutto rispetto alle proposte che oggi stiamo qui avanzando. Prego, Viacente. Bene, anch'io do il buongiorno a tutti voi, e vi ringrazio sinceramente per l'attenzione e l'interesse a questa conferenza stampa. Noi siamo a giro di boa, non voglio rubarvi troppo tempo, per l'industria dei servizi e in essa per il settore della ristorazione collettiva. Diceva il nostro Segretario Generale, Paolo Valente, che non a caso, accanto a me, alla mia sinistra, c'è Lorenzo Mattioli, che oltre che essere Presidente della Federazione dei Servizi di Confindustria, cui aderiscono le associazioni di tutti i servizi, Lorenzo è anche Presidente dell'Associazione Europea nel campo dei servizi. Noi teniamo moltissimo a questa iniziativa. Con la ripresa dell'attività, dopo le festività, abbiamo guardato dei dati, abbiamo fatto delle verifiche con i nostri associati e, dicevo all'inizio, siamo ad un giro di boa. Vado per punti perché l'uditorio è molto qualificato, però per dare un senso logico al ragionamento. Noi siamo un settore all'interno dei servizi che ha una sua strutturale specificità. qual è? È quella che, è vero che la parte finale del servizio è un servizio alla persona, che si concretizza con la distribuzione, diciamo, dei pasti. Un miliardo di pasti, molti dei quali, la stragrande maggioranza, ha soggetti fragili, anziani, malati, bambini e bambine. Credo che qualcuno, prima o poi, dovrà fare un conteggio, una stima, così fa un paese industriale serio, una grande potenza mondiale, qual è l'Italia, pur con tutti i suoi limiti. Quanti costi si potrebbero risparmiare con una corretta alimentazione? Perché sappiamo l'impatto negativo di una alimentazione non sana, accanto ad uno stile di vita, diciamo, altrettanto non sano, quando l'impatto negativo è sulla salute e sui costi della sanità pubblica. Noi invece la mettiamo in positivo. Deve contribuire al benessere, diciamo, della persona. Quindi siamo un settore che fa un mestiere delicatissimo, ripeto, un miliardo di pasti all'anno, dipendenti dirette, perché in maggioranza sono donne, 110 mila, più l'indotto è tutta la filiera. Però a monte abbiamo, questa è la nostra specificità, un'attività produttiva. A monte si producono i pasti prima di essere distribuiti, a volte si trasportano pure. Quindi noi ci siamo presi, in questi tre anni che ci sono alle spalle, tutti i costi, tutto l'incremento dei costi, che era possibile prendersi sulle spalle. Da quelli produttivi, quindi i costi dell'energia, i costi dei trasporti e poi i costi delle rate alimentari. Abbiamo visto i dati pubblicati dall'Istat qualche giorno fa, sono eloquenti, sembra che finalmente si possa domare l'inflazione, che è in discesa, ma abbiamo solo un dato in controtendenza, e cioè il settore alimentare, che nel 2023 cresce più che nel 2022, cresce del 9,8%. È il settore nel quale noi operiamo. Siamo un settore strategico per l'Italia, dicevamo prima con gli amici, con Erika Mazzetti, diciamo, ma noi siamo un settore che opera nel campo della ristorazione, che è un brand che ci rende famosi nel mondo. Abbiamo candidato la cucina italiana giustamente a patrimonio dell'UNESCO. Occorre essere coerenti con chi produce un miliardo di pasti. Basta essere coerenti, dare un senso ai ragionamenti che si fanno. Aggiungo anche un'altra considerazione. Noi crediamo, poi non spetta a noi ovviamente il giudizio definitivo, noi crediamo anche di essere utili, di essere molto utili, come servizi e come ristorazione collettiva al Paese. Perché grazie alle migliaia di professionalità presenti nelle nostre aziende, comprese alcune specializzazioni molto importanti, pensiamo di fornire servizi con il miglior rapporto qualità-prezzo. Siamo nel pieno di una crisi profondissima e anche quindi di grandi cambiamenti. Abbiamo alle spalle il Covid, credo che abbiamo dato un contributo molto importante, soprattutto alle nostre collaboratrici e ai nostri collaboratori, a mandare avanti l'Italia durante il Covid, perché negli ospedali i pasti venivano serviti. E poi siamo, dopo, superato il Covid, siamo piombati in una situazione di inflazione che non si vedeva da 40 anni. Ho detto prima dei dati, e in più siamo un settore, le nostre aziende, le nostre associate, le associate di Angema, c'è il presidente Scasciotti, che sta qua a dimostrare l'unità del settore in un momento così cruciale, investiamo tantissimo in formazione noi, in specializzazioni, in qualità. E noi come Anir Confindustria abbiamo creato, c'è qua il vicepresidente Tommaso Putin, abbiamo creato anche una commissione per accompagnare le imprese nel percorso di una sempre maggiore qualità e maggiore sostenibilità. Ma veniamo al punto. Dei maggiori costi di questi tre anni si sono fatti carico le imprese. La stragrande maggioranza, perché soltanto, è una nostra stima, soltanto il 20-25% dei contratti in essere sono figli del penultimo codice, quello che faceva la cosa più normale, che adeguava i prezzi all'incremento dei costi. La revisione dei prezzi, si ha detto per l'ennesima volta, non è un aumento dei prezzi, è un adeguamento dei prezzi all'incremento dei costi che si registra nei 12 mesi precedenti, quindi quando già le imprese le hanno pagati questi costi. in una struttura contrattuale in cui l'impresa non ha margini per recuperare marginalità. Abbiamo dei capitolati molto rigidi, dei menu predeterminati, la clausola sociale che giustamente ci impone la riassunzione di tutto il personale e quindi il discorso è chiarissimo. In questi anni le prezze di ristorazione hanno avuto perdite molto importanti. Il Vice Presidente Fusco poi dirà più nello specifico su questo abbiamo perso quattrini, abbiamo attinto al nostro patrimonio per reggere l'urto delle perdite. I grandi gruppi che hanno ovviamente maggiori risorse hanno diversificato negli anni, hanno le spalle più larghe, quindi hanno mitigato un po' le perdite ma non dimentichiamo che in questo settore operano 1.200 imprese. Pensiamo anche quindi a quanta imprenditoria diffusa è importante perché le imprese sono un grande patrimonio, sono le uniche che fanno sviluppo e occupazione a che ricchezza imprenditoriale rischia di saltare. Noi abbiamo chiesto un segnale di attenzione che non c'è stato per le perdite di questi anni. Io però voglio essere molto sincero insomma. Probabilmente non sarà facile ottenere un segnale di attenzione per le perdite di centinaia di milioni di cui ci siamo fatti carico. Certamente siamo qua nella sede del Parlamento della Camera dei Deputati e vi chiediamo ovviamente di non abbassare la guardia. se ci fosse la possibilità di un segnale di attenzione per rimpinguare le casse di questo settore come già si è fatto diciamo con il fondo che fu studiato a suo tempo noi saremmo felici. Ma ci stiamo attrezzando le imprese più grandi o medio grandi per reggere il colpo. il punto riguarda il presente e il futuro quello cruciale. Perché il nuovo codice che ha molti aspetti positivi che abbiamo riconosciuto pubblicamente all'articolo 60 diciamo ha una formulazione che davvero non funziona. Non funziona. Primo perché l'articolo 60 è quello sulla revisione prezzi accumula i lavori ai servizi e alle forniture. Parliamo di due mondi che più distanti non si può. Noi facciamo servizi a parte la natura del servizio ma servizi a ripetizione su un ambito pluriennale con le rigidità che ho detto prima. Non facciamo un'opera che si caratterizza per gli stati di avanzamento premesso che anche sui lavori al mio personale giudizio ma la dico qui ci sono dei problemi ma sui servizi va studiata va introdotta per legge in maniera chiara una specificazione diversa da quella dei lavori perché facciamo servizi pluriennali ripetizione l'articolo 60 fa una cosa incredibile perché dice è riconosciuta la revisione prezzi poi quando dice come la nega perché mette una soglia che io chiamo una franchigia per intenderci del 5% e poi sulla parte diciamo che va oltre il 5% riconosce l'80% questo è un settore che se prendiamo gli ultimi anni delle 1200 imprese prendiamo le 5 migliori i migliori migliori negli anni migliori scusate la ripetizione ma è voluta avevano un utile dell'1 1,5% di questo stiamo parlando non a caso sono settori che devono fare economie di scala e si reggono su grandi numeri su grandi numeri con marginalità unitarie ridotte quindi i margini diciamo da questo punto di vista non ci sono quindi noi chiediamo davvero su questo un intervento un intervento io vengo alla domanda insomma noi arriviamo provati da questi anni ma ce l'abbiamo sulle spalle ci faremo carico dei costi e però non toglierci anche la speranza perché il codice non è una circolare che diciamo è uno strumento diciamo più leggero di disciplina giuridica è un codice non debbo risalire all'era napoleonica per dirne diciamo l'importanza e se il settore dei servizi è in esso della ristorazione collettiva non vedranno una modifica urgente veloce del codice beh davvero credo che avremmo messo una pietra tombale su questo mondo con grande con grande chiarezza quindi ci aspettiamo una risposta schietta può darsi pure che diciamo la volontà la scelta sia questa ma almeno ci attrezziamo non so come non so se possa esistere un paragadute sufficiente credo di no ma questo noi dovremmo fare cosa chiediamo noi chiediamo semplicemente l'abolizione della franchigia del 5% perché non ha motivo per le caratteristiche della revisione dei prezzi siamo in tempi di grandi difficoltà di finanza pubblica vogliamo lasciare l'80% diciamo certificano lasciamo l'80% ma quella franchigia non ha nessuna motivazione logica se non una penalizzazione che in maniera un po' dirigistica si vuole inserire non ha nessuna motivazione nessuna perché ho detto si tratta di adeguare dopo un anno i prezzi ai costi che non certifichiamo noi è lo Stato di certificare non va bene l'Istat troviamo un altro troviamo la ANAC troviamo la non so bene chi la Corte dei Conti le singole amministrazioni chiunque Paperino Pluto chiunque lo decide lo Stato chi deve dire qual è stato l'incremento dei costi ma una volta accertato bisogna che ce lo riconoscete non vi voglio tediare su un aspetto tecnico però un minuto lo prendo noi quando facciamo le offerte congiuntamente presentiamo una paginetta in cui c'è la congruità del prezzo nella congruità del prezzo noi giustifichiamo i costi e indichiamo anche il margine che come sappiamo è quando va bene di un punto due punti è quello che è se una offerta anche dopo l'aggiudicazione non è ritenuta congrua da un punto di vista economico dalla stazione appaltante viene revocata l'aggiudicazione provvisoria quindi è un elemento fondante del contratto ora se nel tempo i contratti mediamente durano 5 anni quei numeri non vengono tutti aggiornati ma vengono aggiornati soltanto i costi la congruità viene meno con l'inflazione a due cifre come c'è stata e come c'è ancora di queste dimensioni la congruità salta in pochi mesi quindi salta proprio anche l'architettura giuridica è come si dice ad agliuandum una una ragione in più quindi noi io approfitto della presenza di adorevoli parlamentari c'è anche la relatrice che fu che fu la relatrice tra l'altro nella camera dei deputati del nuovo codice degli appalti Raffaele Nevi adorevole esponente di Forza Italia adorevole adorevole esponente portavoce anche vicepresidente vicario diciamo del gruppo poi le medaglie a un certo punto finiranno c'è Nico Stumpo che è membro della direzione nazionale del partito democratico e parlamentare importante Walter Verini insomma noi chiediamo adesso senza entrare nel tecnico un atto molto forte molto deciso da parte del Parlamento che impegni il governo a modificare il codice nei punti che ho detto poco fa poi potremo scendere diciamo anzi potremo salire al concreto perché poi quando si scrivono le misure vanno scritte molto bene e da questo punto di vista non volevo dire che Camazzetti mi ha detto che ha la volontà diciamo di presentare ecco esatto di muoversi diciamo in questa direzione con un atto politico forte che impegni il governo questo noi chiediamo a modificare questo attivo evidentemente ci sono delle resistenze possono esserci ma oggi è vitale quindi noi chiediamo da questo punto di vista una risoluzione inequivoca insomma che dia una risposta alla domanda che ho posto poi dopodiché ovviamente le imprese faranno i compiti a casa e le loro associazioni ricordo soltanto di sfuggita ma non perché sia un tema di importanza secondaria anzi ha un impatto sociale enorme che mentre stiamo discutendo delle cose che sinteticamente ho detto c'è il tema del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore in cui noi operiamo un settore che riguarda 600.000 dipendenti che è il settore quello del commercio e dei pubblici esercizi noi riteniamo anche qui voglio essere esplicito che sia giusto rinnovare il contratto perché per le stesse ragioni che ho illustrato per le imprese è anche giusto che le nostre collaboratrici i nostri collaboratori che sono la più grande risorsa di cui disponiamo perché la qualità dei servizi ogni giorno dipende dal loro lavoro dalla loro formazione dalla loro passione dalla loro competenza vedano diciamo i loro salari adeguati all'inflazione che ne ha ridotto il potere d'acquisto però debbo essere altrettanto chiaro che con questo quadro normativo e giuridico le imprese non hanno alcuno spazio non hanno spazio nei bilanci per diciamo aggiungervi ulteriori costi oltre a quelli che vi ho detto quindi diciamo il cortocircuito c'è il rischio che si crei perché poi noi dovremmo dire semplicemente la verità per un atto di onestà noi vogliamo rinnovare il contratto ma non abbiamo le risorse perché il regolatore che è anche diciamo cliente lascia in piedi di una normativa che non ci dà spazi di bilancio per fare ciò che sarebbe giusto fare ecco io ho ho illustrato brevemente questa cosa poi l'architetto Valente poi il presidente Mattioli adesso diranno anche su altre iniziative che si possono intraprendere veniva citata diciamo la cabina di regia un intergruppo però insomma l'importante è che quello che facciamo quello che vogliamo fare si dica in maniera chiara trasparente come si dice tracciabile in tempi ragionevoli perché purtroppo il tempo è scaduto ma per una semplice ragione perché non c'è più non c'è più perché le imprese debbano fare le loro valutazioni quindi io vi ringrazio di nuovo per l'attenzione mi scuso se ho preso più tempo di quello che avevo previsto e passerei subito la parola direi così visto che abbiamo toccato sia il tema generale già molto ampiamente siamo entrati già nel merito approfittando anche della presenza io darei subito la parola per la parte un po' più discisa di scala così abbiamo il panorama al vicepresidente Fusco che ci illustra un po' dettagliatamente quella che era la proposta esattamente così come l'abbiamo concepita tra l'altro so che ha una grande capacità di sintesi e di efficacia nelle cose che dice quindi sarà molto utile poi darei la parola al presidente Mattioli che invece ci rimette dentro la vicenda dei servizi in maniera più ampia così abbiamo un quadro chiarissimo di quello che stiamo definendo prego grazie Paolo cercherò di non smentirti e di non smentirmi devo unirmi ai ringraziamenti ma non per una questione di manierismo perché oggi il problema che viviamo nel nostro settore è quello di avere la possibilità di raccontarci e facciamo un lavoro oscuro nel senso che non è un lavoro che è diretto al pubblico ma è diretto come diceva il presidente Piacenti prima a collettività molto spesso quando si parla di ristorazione si evocano bar ristoranti caffetterie bistro noi invece lavoriamo in simbiosi con la pubblica amministrazione lavorando in simbiosi con la pubblica amministrazione serviamo collettività che non possono scegliere quindi ospedali caserme scuole università e quindi sebbene facciamo ristorazione la nostra missione è profondamente diversa le responsabilità a cui andiamo incontro e le finalità che intendiamo perseguire sono evidentemente diverse io vorrei partire da un paradosso prima di raccontare nel dettaglio la proposta emendativa noi oggi siamo un pessimo contribuente per lo Stato italiano i nostri utili antiimposte da tre anni sono zero o negativi quindi noi paghiamo poche tasse noi siamo i nemici dei nostri dipendenti perché noi non abbiamo spazio per rinnovare il contratto collettivo e sfido chiunque di noi faccia questo lavoro seriamente a non pensare che il proprio personale sia l'asset più importante la colonna portante sul quale investire per noi e per le future generazioni noi siamo coloro i quali saranno costretti a mortificare la qualità che viene richiesta oggi noi abbiamo in Italia una legislazione alimentare che è la più severa a livello europeo noi siamo i tutori del made in Italy eppure questa biodiversità che in Italia chiaramente ha il suo posto principale deve essere remunerata noi sapete abbiamo l'obbligatorietà per il recepimento di normative europee di introdurre e valorizzare all'interno dei nostri menu i cam quindi parliamo di fili raccorta di chilometro zero di DOP di GP di bio è evidente che chi di noi fa questo lavoro seriamente ha tutta l'intenzione di valorizzare questi elementi che possono fare la differenza questi elementi hanno un costo ora andando nel nel merito di quello che intendiamo proporre come veniva anticipato prima oggi il tema vero su cui l'articolo 60 sostanzialmente fallisce è quello che non pone alcun tipo di differenza tra i contratti di esecuzione istantanea e i contratti di esecuzione periodica o continuativa i nostri sono contratti di esecuzione periodica o continuativa quindi sostanzialmente noi attraverso affidamenti pluriennali che consentono alle stazioni appaltanti di trasferire sull'operatore economico anche parte delle spese per investimenti essendo le stazioni appaltanti abbastanza ingessate sotto questo aspetto noi attraverso contratti pluriennali riusciamo a svolgere un servizio remunerare gli investimenti e sostanzialmente conseguire l'obiettivo che la stazione appaltante ci chiede di conseguire all'interno dell'architettura di gara è evidente che con un'impostazione dell'articolo 60 che prevede una franchigia del 5% su base annua noi all'interno di un contratto di durata non voglio dire quinquennale o settennale ma anche triennale noi lasciamo per strada il 5% all'anno cioè il 15% complessivo di possibile revisione prezzi viviamo un periodo di inflazione che almeno nei nostri settori è ancora abbastanza forte ma comunque anche se andassimo tornassimo verso l'inflazione programmata prevista a livello europeo comunque noi lasciamo per strada il 2-3% all'anno di possibile revisione prezzi con i nostri bilanci che dicono quello che è stato detto prima è evidente che questa situazione fa la differenza tra un affidamento con una marginalità seppur bassa comunque congrua a remunerare i costi ovvero un affidamento in perdita se guardate le banche date ufficiali gli indicatori patrimoniali delle società del nostro settore sono tutti in picchiata cioè sostanzialmente in questi anni si è dovuto fare ricorso alle riserve per il patrimonio netto per far fronte alle perdite non vogliamo aggiungerci alla schiera di coloro i quali si lamentano ma è evidente che questo meccanismo non è un meccanismo che porta a una via d'uscita c'è una brutta abitudine nel nostro paese che le cose che funzionano vengono smontate fosse anche per una non adeguata diversificazione fino a un certo punto e cioè fino al 2016 esisteva una norma che prevedeva la revisione annuale dei prezzi che era l'articolo 115 del decreto legislativo 163 del 2006 era una norma comunitaria era una norma di derivazione comunitaria e prevedeva che ogni anno sulla base di un'istruttoria che gli uffici delle stazioni appartanti erano obbligati a fare si verificava se ci fossero le condizioni per una revisione del prezzo ovvero no ma questa revisione era da un lato verso l'altro in positivo e in negativo cioè negli anni in cui c'è stata deflazione gli operatori economici hanno anche praticato degli sconti obbligati non desiderati ma obbligati alle stazioni appartanti quindi sostanzialmente questo meccanismo che non creava condizioni di maggior favore agli operatori economici era un meccanismo che consentiva di mantenere inalterato l'equilibrio contrattuale stabilito al momento dell'offerta per tutta la durata dell'affidamento questo riveste questo incontro del pubblico interesse l'articolo 97 anche perché è obbligo delle stazioni appartanti controllare esigere che il servizio venga fatto nel modo previsto in gara e noi operatori economici non ci possiamo sottrarre accampando scuse a questa verità a questa ineluttabile verità oggi potremmo dire signori ma i costi sono aumentati i ricavi sono gli stessi come facciamo a mettere dentro tutto quello che tre anni fa era stato previsto francamente non è un discorso che ci appassiona per chi almeno vuole fare questo lavoro seriamente ma di fatto oggi questa è la situazione un ultimo dato non una considerazione noi siamo tornati dopo quattro anni nel 2000 anzi dopo tre anni perché oggi ci sono le banche dati aggiornate al 31 dicembre 2022 noi siamo tornati agli stessi ricavi ante covid quindi al 2019 l'aggregato delle prime 20 aziende che hanno almeno il proprio fatturato per il 60% derivanti da ristorazione collettiva dice 3 miliardi nel 2019 3 miliardi nel 2022 il problema è che i costi sono cambiati e sono cambiati i costi della produzione il valore della produzione è rimasto immutato è un problema non soltanto legislativo è un problema di democrazia che non ha colori quello di consentire a che un settore possa svolgere in maniera libera la propria intraprese economica rispettando i propri doveri e esigendo che vengano esercitati i propri diritti grazie procederei allora dando la parola al presidente Mattioli e poi magari raccogliamo gli interventi e qualche altra ringrazio il segretario generale Paolo Valente ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione vedo che già siamo andati molto avanti con i tempi ma come sapete è un tema che ci appassiona molto io non voglio e oggi me lo sono ripromesso come vedete per chi mi conosce non è la prima volta che vengo qua infatti lo dicevo prima col segretario generale e tediarvi di conferenze stampa in questa sala ne abbiamo fatte diverse i miei collaboratori lo sanno bene abbiamo con interesse e peso le parole appreso che in queste settimane in questi mesi c'è un'attività dell'arco parlamentare che si sta interessando del mondo dei servizi in particolare come sapete è stato oggetto da parte del questore della Camera e della Camera dei Deputati dell'internalizzazione dei servizi di ristorazione pulizia e vigilanza e quindi ci fa come dire ci sembrava importante il momento giusto per tornare a parlare ancora una volta di questo mondo ecco questo mondo che io rappresento io sono Lorenzo Mattioli sono il presidente di Confindustria Servizi HCFS che cosa chiediamo non entro nel merito della questione sull'internalizzazione perché chi mi conosce sa che io negli anni passati ho fatto delle battaglie molto importanti contro il partito politico del Movimento 5 Stelle sull'internalizzazione delle scuole i risultati oggi dicono che avevamo ragione che è un disastro le scuole sono sporche i presidi si lamentano perché è stato prodotto soltanto un come dire un carrozzone pubblico io non voglia che se ne crei un altro qua alla Camera dei Deputati ma magari mi sbaglio che cosa chiediamo al Governo che cosa ci interessa ci interessa punto primo che venga rispettato quello che è scritto sul codice degli appalti molto semplice primo che venga istituito questo benedetto gruppo interparlamentare per dire per occuparsi del mondo dei servizi belli brutti sbagliati vi ricordo che ormai la tendenza europea di tutti gli stakeholder e in particolare prima il Presidente Piacenti lo ringrazio ricordava il mio ruolo europeo ecco c'è una direttiva comunitaria e il Parlamento che sta per scadere si sta rioccupando del public procurement dove mi sembra in modo molto chiaro e preciso io mi permetto di dire che l'Italia è secondo me da procedura di infrazione perché della direttiva comunitaria non ha rispettato nessun paragrafo e nessuna virgola era sufficiente fare una traduzione l'ho detto tante volte ma noi abbiamo voluto fare tante altre cose ecco dicevo quindi il primo punto è un semplice gruppo interparlamentare il secondo sempre nel codice degli appalti che ripeto è stato intergruppo intergruppo sì intergruppo sì sì va bene l'intergruppo intergruppo sì vabbè ma ce ne stanno tanti voglio dire il Partito di Governo ce ne ha 180 no no certo no infatti sono partito da là certo poi mi correggerete scusate sbaglio quindi voi siete più bravi di me secondo la cabina di regia è scritto nel codice degli appalti che cosa stiamo aspettando per istituire la cabina di regia penso che insomma sia abbastanza urgente come questione ultimo perché sempre scritto nel codice degli appalti e ce lo ha detto chiaramente nell'ultimo incontro abbiamo avuto al Ministero delle Infrastrutture il capo dell'ufficio legislativo che il CIPES finalmente inizia a lavorare e si occupi del mondo dei servizi è scritto nel codice appalti ecco noi chiediamo queste cose molto semplici sono convinto che il Governo le forze parlamentari le forze di maggioranza che più ne metta si vogliono occupare di questo grazie a tutti grazie Presidente allora io procederei magari con degli interventi se vogliamo raccoglierli per noi sarebbero molto importanti poi magari aggiungiamo qualcosa a noi a conclusione quindi invito o l'Onorevole o l'Onorevole Mazzetti diciamo magari se vogliono prendere parola e raccoglierei poi gli altri interventi che per ora diciamo dei parlamentari presenti vedo che stupo è andato via non so chi c'è se magari per noi sarebbe molto importante avere un vostro va benissimo anche l'Onorevole Mazzetti tanto so che conoscete il problema quindi ci avete seguito sin dall'inizio grazie prego Noio grazie intanto a voi di essere qua alla Camera Deputati noi abbiamo accolto con molto piacere con il nostro Capogruppo Vicario Nevi e il portavoce questa vostra proposta di fare qui alla Camera questa conferenza stampa perché per noi ascoltare le categorie economiche professionali è una cosa importantissima per meglio poi legiferare per questo noi di Forza Italia è un punto fondamentale come più volte ci siamo confrontati con voi non solo adesso ma proprio anche in fase di esecuzione del codice appalte perché in qualità della relatrice ci siamo visti ascoltati auditi e questa tematica era da subito diciamo in parte emersa siamo riusciti a gestire alcune situazioni durante l'esecuzione del codice appalte soprattutto ricordiamoci bene come è nato il codice appalte il codice appalte è nato come riforma essenziale per avere i fondi del PNRR è nato in un primo momento con il governo Draghi di cui anche al momento la relatrice dove abbiamo dato la linea guida e poi il Consiglio di Stato ha steso in modo veloce e anche in modo esaustivo perché ha già fatto il regolamento allegati eccetera in sei mesi il codice appalte poi è tornato alla Camera dove l'abbiamo approvato definitivamente come sapete bene voi ma anche chi mi segue spesso su queste tematiche io fin da subito ho proposto e è anche diciamo scritto nella redazione del codice appalte di separare i lavori da servizi e forniture perché mi rendo ben conto che siano mondi completamente diversi io seguendo molto di più i lavori pubblici capisco le difficoltà e le differenze che esistono tant'è che fin da subito ho indicato di fare una parte più tecnica per i lavori pubblici da chiamare proprio il manuale del costruttore perché era proprio una cosa tecnica da costruire e un codice invece per servizi e forniture perché conoscendo un po' la materia ascoltando soprattutto voi ma chi in questo settore c'è continuamente avevo intuito le difficoltà nell'applicare poi questa cosa oggi però quello che è successo è successo bisogna guardare come diceva lei giustamente al futuro sicuramente un codice nato anche se io credo che la maggior parte diciamo delle risposte sono state date con questo codice sia per i lavori che i servizi e le forniture c'è ancora delle incognite e queste incognite le potevamo vedere soltanto quando veniva applicato è stato applicato dal primo luglio scorso dal primo gennaio c'è la digitalizzazione e naturalmente applicando iniziare ad utilizzarlo ci rendiamo conto se ci sono delle difficoltà proprio per questo avevamo previsto proprio per questo avevamo previsto nel codice di poter fare delle correttivi io credo che stravolgere il codice non sia opportuno in questo momento credo che tante risposte mi dicevo positiva la data e il codice ma dei correttivi sono fondamentali tant'è che anche lo stesso ministro Salvini in più occasioni pubbliche ha ribadito questa cosa che vi sto dicendo io cioè di dividere i lavori da servizi e forniture e la prima proposta che abbiamo fatto tra l'altro l'ho scritta anche in redazione ed è la parte che risolverebbe molti problemi dall'altra anche lui ha seguito il discorso di fare questo tipo di correttivi che naturalmente a breve andranno fatti perché ora sono entrati in pieno del vigore dell'attivazione e visto insomma che giustamente io capisco dal ministero ci sono tante cose da portare avanti siamo in pieno PNRR tante cose da fare e come partito di Forza Italia e come responsabile del dipartimento lavori pubblici insieme all'architetto Mele che con me coordina diciamo la parte tecnica del dipartimento abbiamo pensato di dare delle piccole diciamo modifiche al codice appalti che sono dei correttivi veri e propri e che la maggior parte riguarderà i lavori pubblici perché non ci scordiamo poi il codice appalti ultimo ha fatto diciamo riguarda l'80% lavori pubblici e forse il 20% servizi e forniture mentre i veri appalti poi sono viceversa perché sono molti più servizi e forniture che lavori anche se ora è un momento straordinario per il PNRR e in questi correttivi abbiamo messo delle modifiche diciamo come si chiama proprio i correttivi che non vanno a stravolgere il codice perché sapete benissimo se noi modifichiamo il codice nel temi del principio dopodiché deve tornare in Consiglio dei Ministri deve tornare in Consiglio di Stato non se ne esce più e questi correttivi noi li abbiamo proprio stesi li abbiamo scritti e aspettavamo proprio questo incontro di oggi per ascoltare voi perché mancava l'ultimo diciamo articolo di questi correttivi che riguardava proprio il tema dei servizi e fornitore per cui questa è stata un'occasione importante per ascoltarvi per capire la categoria cosa necessitava abbiamo capito benissimo qual è il problema la gabina regia che io credo sia stata insediata ma ancora non è partita a Palizzo Grigi deve partire sicuramente in quei tempi sicuramente quello che dicevate voi e ne avevamo già parlato con Massimo prima mentre si faceva il codice appalti il 5% di franchigia e poi pagando l'80% poteva essere un problema lo è per lavori pubblici immaginiamo per servizi e forniture quando essendo anche repetitivi pensate un appalto di 5 anni se c'è una franchigia del 5% si va quasi a un 30% poi si arriva perché è accumulabile per cui ecco questo va chiarito perché non è possibile che noi dobbiamo tutelare il mondo industriale del nostro paese voi fate siete un tastello fondamentale dell'industria del nostro paese e non è concepibile che avete un aumento del 30% una franchigia perché in 6 anni che di media sono gli appalti per cui questo va valutato noi ascoltiamo proprio le categorie per capire dove potiamo andare ad agire credo una prima risposta può essere questa risoluzione vedo anche non so ci sono ancora i colleghi di opposizione invece secondo me se posso fare un intergruppo va bene ma se stiamo tutti d'accordo noi presentiamo questa risoluzione votiamo la maggioranza e l'opposizione e forse è il modo migliore per dare una risposta politica alle vostre richieste poi come sapete Forti Italia è sempre a disposizione all'ascolto a seguirvi e a ricepire tutte quelle che sono le vostre indicazioni perché chi lo fa di lavoro sicuramente capisce meglio come potete dare a noi altre informazioni per legiferare e applicare la norma grazie grazie a lei onorevole ecco la scelta dell'indirizzo politico è la scelta un po' richiesta da questa richiesta anche dell'intergruppo quindi diciamo secondo me tutto ciò favorisce la possibilità di entrare nel merito cose di cui lo ringraziamo è importante anche che ci aiutate a sollecitare l'istituzione di questi due gruppi diciamo la cabina di regia e il CISPES perché soprattutto il CISPES anche prevede una figura un referente per il mondo dei servizi quindi forse è il primo passo per cominciare ad avere una voce diretta che spesso in alcune scelte manca vedo c'è un po' di stampa se qualcuno della stampa vuole fare qualche domanda questo è il momento se ci sono domande da avanzare perché poi lascerei la parola al Presidente Piacenti per le conclusioni sì vediamo noi adesso vi lasciamo una nota con tutti gli elementi comunque anche quello che abbiamo detto mettereva gli atti allora Massimo direi che poi diciamo chiudiamo? sì perché siamo abbondantemente oltre bene le mie conclusioni sono sono brevissime io vi ringrazio nell'intervento introduttivo ho cercato di porre le questioni che poi sono state ampliate e sviluppate negli interventi che che diciamo hanno seguito il mio soltanto due considerazioni mi sembra che la posizione espressa autorevolmente dal gruppo di Forza Italia sia una posizione molto chiara l'apprezziamo nei prossimi giorni speriamo che intorno a questa posizione che poi si dovrà esplicitare in un atto diciamo formale si possa coagulare intanto la maggioranza che sostiene il governo ma poi una maggioranza anche più ampia di tipo parlamentare è importante che su queste questioni ci diamo anche dei tempi perché ripeto il tempo è davvero scaduto per le imprese ma soprattutto soprattutto abbiamo un tema gigantesco che io ho richiamato volutamente alla fine perché non era il tema della conferenza stampa ma quello del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro con il presidente Scarsciotti di Angem ci siamo sentiti dobbiamo riuscire ad essere uniti sulle questioni che ci riguardano anche sulla questione del rinnovo del contratto dobbiamo andare oltre una storia che è stata spazzata via letteralmente dalle vicende degli ultimi due anni il mondo è cambiato radicalmente chi lo capisce velocemente potrà recitare una parte non so quale nel nuovo mondo se ci attardiamo con la testa rivolta all'indietro la partita è persa in partenza quindi io auspico che da parte del nostro mondo ci sia una forte unità una forte compattezza sulle questioni che abbiamo detto e che ci sia un'interlocuzione molto fitta nei prossimi giorni sulle questioni che abbiamo posto per darci delle scadenze che le imprese la filiera l'indotto e le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori attendono davvero con grande ansia grazie a tutti e alla prossima occasione grazie a tutti